copriti ma dite che ti fa un altro sonero dai trecca o l'olio dai trecca o l'olio no 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 dai attento sei partito a fuoco continua a fuoco togli il soggetto togli i colpi e rientra bravo così più veloce rapido sopra e sopra ma chi sei mandracche tira su lavora montante destro si così bravo e doppialo col gancio st chiudi la guardia dai 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 vieni qua vieni qua vai vieni qua blizzalo blizzalo bravo così blizzalo col destro destro gancio a destra ora bravo bravo destra, destra, montanza 4 colpi flesso, flesso torsioni flesso torsioni schiva il tronco muovi il tronco 1,2 1,2, 1,2 1,2 attento dai massimo vieni qua è finito la mano dai dai tutto massimo vieni massimo 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 massimo